... del nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Grazie a tutti. Al mio segnale, scatenate all'inferno. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai, continui, 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 va! No, Matteo, no, no! No, no, no! No, no! No! Vela Zio!